l'ha già fatta la visita al cantiere bellissimo bellissimo ma questa è una vera festa hai preparato una festa meravigliosa ascoltavano un maestro un professore grazie la forza di oggi la necessità di un cobertore di due edifici delle aule rappresentano la forza di più e questa che riguarda le aule la forza di oggi